Buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo di una serie di 5 webinar che abbiamo organizzato con la Densply Sirona. Ancora una volta a gentile richiesta il professor Vassilio Scaizzas sarà con noi, ci illuminerà sull'utilizzo dei materiali adesivi e i materiali per restauro diretto e in diretto di tipo adesivo. Le attività della IED continueranno in collaborazione anche con la Densply Sirona nella seconda parte dell'anno con delle attività in presenza, speriamo possibili vista la situazione esistente. Sicuramente la Densply Sirona darà comunicazione di queste attività che programmeremo per la seconda parte dell'anno intorno a ottobre, novembre, dicembre. Spero che questa iniziativa vi sia piaciuta e quindi lascio la parola all'amico e maestro professor Caizzas per questa bella serata. Grazie, buonasera a tutti. Maestro era solo uno, noi gli altri siamo semplici, umili lavoratori del dente. Comunque buonasera di nuovo a tutti. Io devo intanto ringraziare l'Accademia, ringraziare il Presidente, sicuramente chi ci ospita la Densply Sirona e tutto il suo staff, soprattutto i due angeli custodi che ci aiutano. Continuiamo dall'ultima volta che abbiamo parlato di materiali, perché il tempo non è stato sufficiente, ma soprattutto perché abbiamo avuto tante richieste di approfondire alcuni aspetti e spero stasera di riuscire nel tempo che abbiamo di andare avanti in maniera abbastanza soddisfacente. Dunque farò un brevissimo riassunto della puntata precedente per collegare quello che dobbiamo dire stasera. Vi ricordo che noi siamo un'Accademia, Accademia vuol dire trasmettere quello che uno sa e scambiare, e dialogare, tant'è vero che il dialogo è nato dai miei antenati all'Accademia di Platone e questo è il nostro scopo, di scambiare le idee e le conoscenze, perché senza conoscenza non possiamo avere opinione, così dice Platone. Quindi nell'ambito dell'Accademia nessuno è più bravo dell'altro, ognuno sa un pezzettino e tutti mettiamo il nostro pezzettino insieme e facciamo un grande pezzettone che sarebbe quello che ci serve per poter lavorare nel miglior modo possibile per la soddisfazione soprattutto dei nostri pazienti. Che non dimentichiamo che noi mangiamo con i denti dei nostri pazienti, metaforicamente detto. Quindi entriamo più nell'argomento specifico, noi dobbiamo pensare al nostro successo finale del nostro restauro, quindi dobbiamo assolutamente conoscere molto bene il nostro caso clinico, quindi una diagnosi corretta con tutti i mezzi diagnostici per arrivare a conoscere i materiali e soprattutto avere più peso sulla polimerizzazione dei materiali e come possiamo ottimizzare le proprietà fisico-chimiche che hanno i nostri materiali, attraverso una corretta polimerizzazione che non sempre succede. Quindi alla fine, avevamo detto l'altra volta, noi dai nostri materiali cosa chiediamo? Chiediamo un po' di cose che non sempre riusciamo a avere tutti insieme a disposizione e quindi cerchiamo con il nostro modo di lavorare di creare meno errori per ottimizzare le performance dei nostri materiali, anche se qualche volta alcune proprietà fisiche tra le quali mettiamo anche proprietà ottiche dell'estetica e della diffusione della luce, ma soprattutto chiediamo la biocompatibilità e noi mettiamo nella cavità orale, nel corpo umano, un qualcosa che deve stare lì sperando per parecchio tempo, di conseguenza chiediamo una biocompatibilità o almeno una biotolerabilità. Poi chiediamo la stabilità volumetrica, nel senso lo mettiamo in un ambiente dove avvengono dei cambiamenti volumetrici sia per pressione, per igroscopicità, effetti termici, una bevanda calda, una bevanda fredda. Quindi il nostro materiale rispetto al dente ha delle modifiche volumetriche, visto che stiamo su questo aspetto vi dico subito una questione che dobbiamo sempre pensare. Alcuni dei nostri materiali diretti, per esempio i compositi, hanno un coefficiente di espansione termica un po' di più del dente. Se il dente facciamo uno, alcuni compositi ce l'hanno 20, addirittura qualche tempo fa c'era uno che era 60, qualsiasi unità di misura metriate, di solito sono micro. Quindi se noi prendiamo un caffè un grado di più rispetto alla temperatura della cavità orale, sicuramente un composito può dilatarsi sei volte, cinque volte, venti volte, addirittura di più e questo significa pressione sulle pareti, se è un intarsio, un'otturazione. Se è un overlay o qualcosa che copre di più, si può sicuramente creare delle pressioni dopo il pari. Lo stesso succederà quando abbiamo una bevanda molto fredda, il materiale si contrae molto di più del dente e quindi si possono creare o delle compressioni da un overlay oppure una microfessura da un'otturazione o da un inlay. Quindi stiamo attenti a scegliere i materiali con una stabilità volumetrica molto vicina a quello del dente. Poi abbiamo un'altra cosa che chiediamo ai nostri materiali e la resistenza alla compressione, che noi mastichiamo e non dimentichiamo che in un centimetro quadrato, nei settori posteriori, noi applichiamo circa fino a 80 kg di pressione. Di conseguenza il nostro materiale resiste? Vi faccio anche qui un esempio. Vi ricordate, nell'epoca delle amalgame, una tra le più resistenti che avevamo allora, anzi la più conosciuta, che era la dispersaloi. Bene, la dispersaloi aveva una resistenza alla compressione di 260 psi, una misura americana. I compositi di oggi sono di gran lunga superiori, alcuni, altri un po' meno. I flow wobble sicuramente di meno, stiamo attorno a 150-200, 220 qualcuno caricato. Però ci sono delle amalgame che avevano una resistenza alla compressione di 400-490 megapascal, se ci trasferiamo sulle unità di misura che utilizziamo adesso più moderne. 400 e passa megapascal, oggi dei compositi ne abbiamo qualcuno che arriva a 450 addirittura. Non parliamo di quelli che vengono cotti in laboratorio, parliamo di quelli che possiamo polimerizzare noi direttamente in bordo. Quindi come vedete i materiali sotto quest'ottica sono abbastanza resistenti, però devono avere una composizione idonea per poter fare questo. L'altra cosa che chiediamo ai materiali è la mimeticità, parliamo di colore e di stabilità nel tempo del colore del materiale. Ecco qui c'entra qualcosa di nuovo che alcune case vogliono inserire nella loro composizione chimica. Finora la maggior parte dei compositi avevano nella loro composizione della resina la molecola di Bowen, il bisfenologico del metacrilato. Questa molecola conferiva la resistenza al mix di resine, quindi del composito successivamente. Però era quella che nel tempo si ingialiva un po' di più, perché? Perché non arrivava mai a una polimerizzazione, a una conversione dei monomeri 100%. Di conseguenza quelli che non erano convertiti, e di solito era circa il 30% non convertito, nel tempo assorbiva dei coloranti dai cibi e assorbiva altre lunghezze d'onda di energia e piano piano, soprattutto nel settore anteriore, piano piano diventava giallina. Molte case adesso cominciano a introdurre altre molecole al posto del bisfenologico del metacrilato. Però dobbiamo dire che non abbiamo ancora una valutazione lunga nel tempo per poter dire che le nuove molecole siano superiori di questa. Comunque cromaticamente stiamo aspettando a vedere come si comporteranno questi materiali dopo 10-15 anni nel ambiente della cavità orale. Un'altra cosa che chiediamo ai nostri materiali è la longevità. Ma longevità intendiamo qui l'interazione con il substrato. Intendiamo qui la cavità, smalto, dentina o quello che è. E questo è importante perché la unione mecanica e contemporaneamente chimica con il substrato è quello che ci dà una maggiore longevità dal punto di vista non che rimane l'otturazione sul posto, perché come vedremo tra un po' sul posto può rimanere per altre ragioni di ritenzione. Però quello che significa longevità è l'ermeticità. Ecco qui possiamo aggiungere la parola ermeticità che significa che sigilla perfettamente, come ha detto il dottor Coraino al suo webinar, il sigillo apicale con i cementi ed i materiali di chiusura apicale, ma il sigillo oclusale del endodonto è quello che ci dà il successo del nostro trattamento endodontico, visto che dobbiamo ricostruire anche denti endodonticamente trattati. Quindi queste proprietà tutte insieme, se fosse possibile averle sarebbe il massimo del successo. Qui vediamo un trattamento endodontico appena finito e controllato un po' nel tempo e certamente abbiamo un ottimo risultato. Guardando questo caso qui, con qualche difficoltà siamo riusciti a completarlo, quello che è importante adesso è questa soluzione. Il mio amico Cristian ha detto, il dottor Coraini ha detto l'altra volta che progettando in maniera strategica quale cuspidi avere, quale cuspidi tagliare se sono molto sottili, vedete qua è molto sottile, se io qui lo preparo per fare una corona certamente di dente mi rimane pochissimo. Quindi è importante abbassare le cuspidi, ricordate quanto avevamo detto, aveva detto anche lui, 2-3 mm secondo lo spessore che abbiamo, ma soprattutto è di proteggere perifericamente il tavolato occlusale in maniera sufficiente con lo spessore del materiale che noi abbiamo scelto. Un conto è scegliere un overlay in oro tipo 3 o tipo 2, ma credo più 3 e cercare di avere un tavolato occlusale funzionante, un altro conto è sceglierlo in una ceramica o in un composito. Le cose cambiano, la ceramica richiede altri spessori, il composito ancora altri. Ma soprattutto dobbiamo calcolare che quando qui sopra sulla corona arriva su una cuspide, arriva su una cuspide dell'antagonista, qui abbiamo una tendenza di aprirsi, di deformarsi e questa deformazione non deve avvenire, quindi il materiale deve essere sufficientemente resistente e rigido per mantenere l'ermeticità del sigillo che noi abbiamo ottenuto attraverso una corretta cementazione, manipolazione e tutto il resto che sappiamo. Quindi è importante conoscere le proprietà dei materiali, scegliere quelli corretti per il caso che ci interessa e conoscere come si comportano. Un composito microibrido o macroibrido a pezzettini significa indubbiamente forze di coesione all'interno un po' ridotte rispetto a un composito dell'ultima generazione dove sono particelle sferiche come questo materiale di Sferetec dove abbiamo pre-polimerizzati materiali ancora più micro e alla fine abbiamo dei cluster che riescono a dare a occupare tutti i microspazi, quindi abbiamo una resistenza alla compressione quasi come la tightening dell'amalgama di una volta. Questo è un ottimo materiale per le soluzioni overlay dirette o indirette insomma. Quindi andiamo sul discutere un attimino sull'ermeticità e sull'adesione. Che cosa intendiamo come adesione? Intendiamo una unione possibilmente inferiore di un nanometro tra il nostro materiale e il substrato. Ora sul substrato l'altra volta io vi ho parlato tantissimo sulla microstruttura del substrato e non posso stare stasera a discutere di questo. Vi ricordo soltanto che ogni volta che noi dobbiamo mettere qualcosa sul nostro dente, otturazione è questa, corona è questa, perno è questo, dobbiamo sempre considerarlo se ha bisogno di pre-preparazione, pre-trattamento. Quindi il nostro oggetto che dobbiamo inserire su una cavità o su un canale dobbiamo prima conoscere e sapere cosa gli dobbiamo fare prima di inserirlo. Un perno dobbiamo prima pulirlo, prima di averlo provato, pulirlo se necessario, secondo la natura del perno, eventualmente trattarlo chimicamente o trattarlo meccanicamente con microsabbiatrici o altro, ma soprattutto dobbiamo se necessario silanizzarlo, dobbiamo mettere un bonding idoneo, simile con le resine del cemento che useremo. Insomma questo nostro oggetto deve essere sempre valutato e pre-trattato e lasciarlo da parte senza toccarlo né con guanti né con l'altro, ma con delle pinzette idonee. Poi dobbiamo valutare il substrato, la natura del substrato. Velocemente vi ricordo che avevamo detto smalto, dentina, dentina con fluido dentinale dentro, cioè polpa sotto, quindi pensare alla polpa sotto, dentina con tubuli dentinali senza fluido dentro perché già è stato depulvato. Insomma tutte queste caratteristiche che deve avere la dentina, che ha la dentina, noi dobbiamo conoscere perché secondo quello che è, noi possiamo trattare in maniera più corretta. Vi faccio subito un piccolo esempio per capire l'importanza di conoscere la natura del substrato. Vi faccio la domanda io adesso così dopo qualcuno mi risponde. Io qui devo usare un sistema adesivo con un primer separato o va bene un self-hatching? La risposta me la date dopo. Perché? Perché se un dente è devitalizzato e qui è disidratato, sicuramente qui io per poter far penetrare dentro il mio sistema adesivo devo avere una certa idrofilia. Quindi pensiamo alla risposta. E poi pensiamo al materiale, cioè i materiali che io devo mettere qui dentro. Di che natura è? Che caratteristiche ha? È un composito semplice? È un flowable? Che modulo elastico ha? Tutte queste caratteristiche che deve avere il materiale. O è un perno? È un perno in zirconio? È un perno in fibre di carbonio? La natura di ognuno di questi ha delle peculiarità che noi dobbiamo conoscere. Altrimenti rischiamo di fare un trattamento simile uno sull'altro e non va bene. Ognuno deve avere il suo pretrattamento. E quindi ricordiamo la dentina. Questa è l'immagine di Professor Fonsi che abbiamo fatto insieme a Siena e guardiamo quanto è importante conoscere quello che stiamo facendo. Quante volte abbiamo fatto un'otturazione in un dente asintomatico e il paziente torna dicendo io ho dolore, prima non ce l'avevo. Sì ma noi gli rispondiamo prima avevi la carie, adesso non ce l'hai la carie. E lui dirà sì ma io non avevo dolore, adesso ho dolore. Insomma una discussione perché abbiamo fatto un errore sulla scelta e sul trattamento di formare sullo strato ibrido e di conseguenza noi abbiamo qui sotto un problema che non passa da solo. Dobbiamo fare qualcosa. Quando noi mordenziamo senza calcolare che la dentina non è un pezzo di marmo ma ha tubuli dentinali che dentro c'è un prolungamento di odontoblasta e attorno c'è un fluido dentinale. Se noi non usiamo un sistema idoneo con molecole idrofile dentro, il nostro sistema resinoso è idrofobo quindi non passa dentro e se non passa dentro fa un tappetino sopra. Noi lo polimerizziamo e la sopra poggiamo l'otturazione e se magari l'otturazione non l'abbiamo polimerizzata bene, questa flette e trasmette il movimento idraulico nei tubuli dentinali come il freno idraulico della macchina per via del fenomeno pascal e il paziente avverte dolore. Quindi stiamo attenti a valutare come è la nostra dentina, altrimenti creiamo degli errori. Dobbiamo indubbiamente cercare di mandare resine idrofobe miste con molecole idrofile all'interno dei tubuli dentinali come in questo caso vedete i resin tanks che sono passati all'interno dei tubuli dentinali, questi ci danno un'ottima ritenzione, ma se magari su ogni pezzettino di questo prolungamento della resina c'è anche una possibilità di avere un contatto chimico con la dentina attorno, allora avremo non solo ritenzione, avremo anche una unione chimica e quella è la ermeticità che vi accennavo prima che dobbiamo ottenere. L'ermeticità è il sigillo, non è solo la ritenzione, non è la chiave che va nella serratura, noi dobbiamo fare in modo che non penetrino dentro niente, qui non c'è stata nessuna unione chimica con la cavità, sì sicuramente essendo una cavità ritentiva avremo un po' di ritenzione, però non abbiamo l'ermeticità che stiamo parlando adesso. Ovviamente dobbiamo fare i passaggi giusti, pulire il caso con detergente, fare una preparazione corretta, calcolare gli spessori anche dal punto di vista ottico e step by step tutti gli stratarelli che servono pur di arrivare a un risultato stabile nel tempo ma soprattutto estetico e lasciamo il paziente contento che l'obiettivo nostro e del nostro paziente. Ora anche sulla cementazione, Cristian ha parlato tantissimo e io non posso entrare adesso su questo, vi voglio solo ricordare che lo spessore che deve avere il cemento che noi utilizzeremo per cementare il nostro perno, previo pretrattamento corretto come abbiamo detto, è fondamentale, cioè non affogate un pernino sottile in un canale voidale per dire ho messo un perno, non abbiamo messo niente, perché quello che conta in questi casi è la caratteristica del cemento che abbiamo inserito. Ricordiamo che se noi vogliamo avere un tutuno, dentina, cemento, perno, dobbiamo avere tutto molto vicino alle caratteristiche della dentina. La dentina ha un modulo elastico circa 18 GPa, quindi i nostri perni, anche quelli di migliore qualità, con fibre di vetro o di quarzo mescolate con resine simili alle resine del nostro cemento, hanno attorno a 25-30, parliamo di una sezione di un millimetro quadrato. Di conseguenza è leggermente di più, però noi non abbiamo nessun cemento che arriva così, il modulo elastico così elevato, abbiamo leggermente di meno. Bene, facciamo un compromesso, un via di mezzo, con un cemento attorno 14-16 GPa, noi abbiamo un tutt'uno che è molto vicino al naturale, solo allora possiamo dire che possiamo mettere una corona sopra o usare questo pilastro come pilastro di un ponte. Se è una corona singola, magari su un elemento anteriore, possiamo anche fare la ricostruzione con un cemento caricato direttamente, ma se si tratta di un elemento che farà parte come pilastro di un ponte, vi consiglio di utilizzare un composito per fare il build up successivo e comunque usare meno cemento possibile. C'è un limite? Questa potrebbe essere un'altra domanda. Di spessore che dobbiamo occupare col cemento? Sì, le varie ricerche parlano dai 100 massimo 200 micron, perché se abbiamo uno spessore maggiore di 200 micron, che sicuramente ce l'abbiamo nei canali ovoidali, dobbiamo fare una personalizzazione, un perno specifico per il nostro canale. Magari lo possiamo fare in maniera indiretta, però deve essere meno possibile il nostro spazio per di cemento che dobbiamo utilizzare. Ovviamente è meno possibile, intendo non meno di 100 micron, se no non riesce a sviluppare le caratteristiche della cementazione. Più o meno lo stesso possiamo dire, per quello che riguarda la cementazione, di un lavoro indiretto. Dobbiamo solo ricordare che il nostro cosa, che è l'intarsio, di che natura è? Se questa natura è composito, ed è fatto già in maniera indiretta, deve essere pulito, perché spesso il laboratorio ce lo manda, purtroppo usano delle cere o altro isolanti, noi lo dobbiamo pulire, lo possiamo pulire o con una microsabbiatrice da 27 micron, bassa pressione, oppure con dei solventi per togliere residui grassi se ci sono. E successivamente dobbiamo silagnizzarlo, poi passare i boni e tutto il resto. Ma se questo è ceramica, bisogna vedere che ceramica è. Un conto è Waffel Spatica, un conto è il silicato di litro, un altro conto è il zirconio. Il dottor Coraini vi ha già detto tutto l'altra volta, io vi ricordo soltanto che se dovete microsabbiare un manufatto in zirconio, dovete utilizzare il laboratorio, i Rocatec, noi in studio i Codiac, che sono delle, chiamiamole sabbie, sottilissime, circa 27, massimo 50 micron, pressilagnizzate che riescono a darci un substrato che possiamo sfruttarlo sotto l'ottica della silenizzazione, che non è proprio così, ma comunque ci dà un aiuto per un migliore adesione. Qui è un'immagine clinica che vi voglio dire non limitatevi alla polimerizzazione del cemento attraverso la luce che esce da un puntale di una lampada, perché non è sufficiente. Quindi i perni conducono un po', ma non è sufficiente. E questa è un'altra immagine che ci dice che lo spessore del cemento è molto ampio e ci possono creare delle bolle dentro, ma soprattutto, essendo il modulo elastico molto più basso di uno e dell'altro, sicuramente questo perno non è stabile qua dentro, quindi evitiamo anche questo. Per le facette vi voglio vedere soltanto la differenza di mordenzature che possiamo avere. Il dente lo sappiamo che dobbiamo fare un po' di più. In questi casi applichiamo sulla parte vestibolare, essendo i prismi obliqui, applichiamo il nostro mordenzante circa 30 secondi. E poi, per quello che riguarda i sistemi adesivi, abbiamo parlato l'altra volta, vado velocemente per ricordarvi che l'ultima generazione, l'ultima classificazione dei nostri sistemi adesivi non parlano di generazioni, ma parlano di strategie di adesione. Di conseguenza noi dobbiamo essere in grado di utilizzare, indipendentemente da quello che è la presentazione, la confezione, dove conoscendo che cosa c'è dentro, possiamo utilizzare sia in maniera di mordenzatura separata, la classica mordenzatura primer e bonding, oppure, secondo, se abbiamo una cavità profonda con un dente di un giovane, possiamo utilizzare la mordenzatura che dà il sistema adesivo perché può avere una sua catena di monomeri acidulati che possono creare una mordenzatura sufficiente senza svuotare completamente i tubuli ventinali dallo smirileio e quindi di evitare quegli errori di operatore che parlavamo prima del fenomeno Pascal. Comunque oggi molti sistemi adesivi, alcuni sono completamente idrofobi, quindi non hanno possibilità di creare una idrofilia, quindi dobbiamo avere il chema o qualche altra molecola separata da passare noi dentro, cosa che possiamo fare quando utilizziamo quelle famiglie che non hanno dentro, nella loro composizione, né chema né altre molecole idrofile. Dobbiamo comprare una bottiglietta da parte e utilizzare quello. Per quello che riguarda alcuni altri gruppi che hanno monomeri acidulati, il che vuol dire sono i cell fetching, anche lì dobbiamo vedere hanno la possibilità, hanno sufficienti gruppi idrofili dentro o dobbiamo comunque passare noi un tipo chema o no. Questo lo dobbiamo capire dalla composizione che dobbiamo leggere all'interno del fogliettivo. E alla fine ci sono gli ultimissimi, che hanno tutti e due gruppi quasi in maniera uguale, sia idrofilo che resinoso, e in più qualcuno di loro contengono anche i silagni dentro e separatamente ci danno una bottiglietta con un iniziatore di catalizzazione, di catalizzazione a parte, senza necessità di avere la luce per forza. Voglio dire con questo in zone dove non arriva la luce, se noi in una goccia di adesivo fotoattivabile ci mettiamo una goccia di attivatore, di catalizzatore, che si chiama activator, possiamo trasformarlo in materiale che si polimerizza da solo. Certamente bisogna fare attenzione di aspettare, se abbiamo una cosa del genere, di aspettare qualche minuto prima di mettere la luce, perché prima si deve attivare la polimerizzazione self, cioè l'autopolimerizzazione, e successivamente noi diamo la luce per completarla. Perché se noi facciamo prima la luce e poi aspettiamo per l'autopolimerizzazione, questo non avverrà in maniera completa, perché la polimerizzazione con la luce ha bloccato quelle molecole che si dovevano muovere, convertendoci, nella stimolazione con l'attivatore di autopolimerizzazione. Insomma, voglio dire, se avete un materiale che non siete sicuri che non arriverà alla luce per polimerizzarlo e quindi lo attivate chimicamente, aspettate prima qualche minuto, di solito le ricerche parlano di 3-4 minuti, e poi date la luce per completare la polimerizzazione. Recentemente quasi tutti, quasi tutti, molti insomma, hanno aggiunto, di sistemi adesivi, hanno aggiunto una molecola, quell'ultima che vi sto indicando adesso, non so se si vede, che è il 10MDP, che è una molecola che può andare bene sia per gli ioni di calcio della parte altamente mineralizzata, sia per gli ioni di calcio che sono l'impalcatura del collagene. Quindi diciamo che è un'arma in più che abbiamo nei nostri sistemi adesivi. Vedete, questi sono gli adesivi per parte organica, cioè per cavità molto profonda, dove il collagene è abbondante, e quindi abbiamo questa molecola anche qui. Quindi aiuta ancora di più per avere una ermeticità maggiore della nostra adesione. che va a finire su questo gruppo chimico, qui molti sistemi adesivi si uniscono con questi, ma tantissimi si uniscono con i gruppi azotati. Quindi ricordiamo che più in fondo scendiamo nella cavità, sempre sul dente con polpa vitale, più questi gruppi sono abbondanti, di conseguenza dobbiamo avere un sistema adesivo che va sul collagene. Questo è il collagene che abbiamo fatto vedere anche l'altra. Gli ultimi universali, cioè alcuni degli ultimi universali, quello che sto provando recentemente è anche questo, che sono un po' misti, hanno un po' scilano dentro, un po' gruppi acidulati, ovviamente idrofili, ma quello che conta, che diremo tra un attimino, è il loro pH. Perché secondo, e questo che diremo adesso è molto importante, ricordatevelo sempre, secondo qual è il solvente e secondo qual è il pH, noi dobbiamo valutare la viscosità del nostro sistema e di stenderlo con l'aria, di strofinare, farlo penetrare nella dentina e poi soffiare delicatamente in maniera più o meno prolungata per assottigliarlo, perché più spesso lo lasciamo può in qualche punto creare delle, passatemi termine, delle pozzanghere sugli spigoli, sugli angoli di una cavità o di un canale, può limerizzarsi e successivamente non far entrare il nostro manufatto. Vedete, se è solo acetone vuol dire che il pH è molto basso, quindi questo può, se lo lasciate molto tempo, può creare una mordenzatura non tanto desiderata. Quindi state attenti su pH e sul solvente. Prendiamo il materiale della casa ospite di stasera, vedete un pH non eccessivamente basso, 2,5 rispetto a qualcun altro, però se andiamo a vedere che cosa ha dentro, vediamo che c'è dentro acetone e water e acqua. Quindi noi possiamo questo aiutarlo a penetrare negli anfrati della dentina che abbiamo creato e che si crea con questo pH per assottigliarlo e creare una piccola pellicola sottilissima per poter dopo applicare sopra il nostro cemento. Questo è lo smirleger che si rimuove di meno e poi lo strato ibrido che noi vogliamo ottenere e i resintax che passano dentro. Alla fine, vi ricordo questa immagine del professor Fonsi, quello che noi vogliamo è di formare lo strato ibrido che è fondamentale per la nostra ermeticità. Qui c'è una tabella che mi ha prestato gentilmente la display Sirona e vediamo che gli spessori che lasciano i nostri sistemi adesivi, c'è qualcuno che addirittura supera i 20 micron. Indubbiamente più spesso è, certamente più ammortizzatore abbiamo, però possiamo avere dei problemi sulla termeticità periferica. Quindi più sottile è come questo qui, possiamo in alcuni casi passare due strati. Per esempio se abbiamo un moncone con polpa vitale sotto, due strati di questi sono sufficienti, di qualcun altro solo un strato, ma nella periferia è meglio avere uno strato sottile, altrimenti è possibile avere idrolisi successivamente. Guardiamo questi spaghetti di Alberto Sordi, invece questo è collagene, mineralizzato, asciugato e vediamo com'è collassato. Il nostro obiettivo è di creare lo strato ibrido, quindi penetrare qua dentro con i nostri sistemi adesivi, strofinando sopra per avere questo lo strato ibrido successivamente. Bene, quanto dura il nostro legame adesivo nel tempo? È relativa alla cosa, dipende molto da quanta dentina abbiamo a disposizione, che tipo di dentina abbiamo nel senso su quanto è mineralizzata o no, quanto è scherotica o no. Comunque una dentina con molto collagene dentro, ricordatevi che il collagene è il tessuto dinamico, che cambia, quindi con le resine che penetrano dentro, se abbiamo dei gruppi chimici idonei per il collagene, per gli aminoacidi del collagene, sicuramente abbiamo dei ottimi legami chimici, però sono instabili. Per colpa delle metalloproteinasi, che sono intrinseche del nostro collagene, della nostra dentina, e le quali sono quelle che facilitano il ricambio, la distruzione e la rinascita del collagene, di conseguenza perdiamo i legami che avevamo creato con il nostro sistema adesivo, sicuramente le metalloproteinasi, se riusciamo a bloccarle, e questo si fa soprattutto con clorexidina, adesivo con clorexidina, o passare noi la clorexidina, almeno due minuti sopra, strofinando non un 0,2, ma possibilmente un po' più concentrata la clorexidina, riusciremo a portare questa autodistruzione del collagene un po' più là nel tempo. E se vogliamo parlare di numeri, ci sono vari lavori, varie ricerche, qui sotto si vede in minuscolo. Se oggi noi otteniamo con la nostra corretta scelta di adesivo e con la corretta manipolazione, otteniamo circa 80% di legami sul collagene, 100% non è possibile, perché ci sono appunto dei gruppi chimici che non si uniscono sempre tutti, e se oggi abbiamo 80%, fra tre anni noi abbiamo perso circa un 20%, scendiamo su 60%. Tra 6-7 anni dell'adesione vera e propria c'è rimasto un 30%. Sicuramente se noi abbiamo creato i Resintex che abbiamo visto prima e lo strato ibrido noi possiamo avere il nostro restauro sul posto, ma come abbiamo detto non significa che è adeso, significa che è ritenuto. Quindi stiamo attenti a dare il massimo della nostra manipolazione corretta per poter ottimizzare le performance materiali. Perché sicuramente questo è il confine tra dente materiale e qui è l'adesivo. Sicuramente qui le unioni che vanno verso il Resintex e soprattutto l'unione con i tubuli dentinali di tipo chimico per colpa del collagene sono un po' instabili. Ora però, se qui noi il collagene l'abbiamo alterato per via dei lavaggi, delle irrigazioni con i nostri irriganti. Sicuramente abbiamo perso, secondo il tipo di irrigante, o componente organica, se abbiamo usato ipoclorito, o componente inorganica se abbiamo usato DTA. Di conseguenza il nostro collagene e dentina, impalcatura della dentina inorganica, sicuramente sono alterati. Quindi noi, conoscendo come abbiamo lavorato durante l'irrigazione, possiamo scegliere il tipo corretto del sistema adesivo di passare dentro. Vorrei dedicare qualche minuto sulla polimerizzazione e sulle lampade, perché qui comincia a esserci una piccola confusione. Intanto quando parliamo di polimerizzazione, intendiamo che i monomeri che sono a disposizione, liberi all'interno dei nostri materiali in maniera flowable o in maniera gelatinosa nelle siringhe dei nostri materiali, stanno lì e aspettano di iniziare una reazione chimica che diventano rigidi. Per fare questo ci sono dentro delle sostanze chimiche che impediscono l'autopolimerizzazione all'interno dei materiali. Parliamo di materiali che per polimerizzarsi hanno bisogno della luce, dell'energia fotonica. Apriamo un parentesi. Quelli che si mescolano pasta A e pasta B, parliamo di questo momento perché quelli sappiamo che polimerizzano soltanto quando stanno in contatto il catalizzatore con le ammine terziarie, cioè per oscito di benzoile e ammine terziarie. Quando sono in contatto questi danno l'inizio alla polimerizzazione dei monomeri che sono dentro sia il vasetto A che il vasetto B, perché sono uguali, solo che su uno c'è il per oscito di benzoile e sull'altro sono le ammine terziarie e quando queste ammine e il per oscito di benzoile sono in contatto il materiale indurisce. Però la conversione non supera mai di 60-65%. Quindi fare un restauro oggi con questi materiali significa partire già con difetto per le proprietà fisiche del materiale. Si sgretola più facilmente, non resiste alle forze ammine terziarie e tutto il resto che significa un materiale più morbido. Allora lasciamo da parte questi, parliamo di quelli che induriscono di più attraverso la polimerizzazione con energia fotone. Bene, perché non induriscono i materiali dentro le siringhe che noi ce l'abbiamo o nelle altre confezioni? Perché? Perché esistono dei blocchi chimici attorno a ogni monomero che si chiamano, o per qualche casa si chiama delle sostanze chimiche che impediscono il contatto di monomeri tra di loro. Perché fanno una specie di camicia, io chiamo il pigiama, che ha ogni monomero e quando vuole unirsi con quello vicino, l'altro monomero, per fare un polimero, si toglie la camicia. Però chi toglie la camicia? E questo avviene attraverso un scambio di orbita, di elettroni che sono nei vari gruppi chimici che sono tutti coinvolti nello stesso materiale e questo avviene attraverso l'assorbimento di un'energia. L'energia fotonica che noi somministriamo attraverso la nostra lampada che abbiamo nel nostro studio. Qual è la caratteristica che deve avere questa lampada? Al di là se è lampada allogena, se è lampada LED, o se è lampada laser, o se è non so, quello che conta è, secondo il costruttore, il tipo di pigiama, passatemi i termini per capirci meglio, che ha messo dentro, tipo il camforo chinono, i vosereen, con l'altro, con il protettore abbiamo messo dentro, per poter togliersi questo e liberare il nostro monomero ha bisogno di un'energia, che l'energia come sapete è basata oltre sulla potenza e sulla lunghezza d'onda. Per quella specifica dei materiali nostri che stiamo parlando è attorno a 470-480 nanometri, mediamente, perché poi c'è una precisazione. Allora, questi 470 nanometri riescono a essere assorbiti dal pigiama, il quale cambia orbita, cambia il potenziale che ha e libera il suo posto, il monomero trova l'altro monomero libero anche quello e si uniscono e fanno un polimero. Questa è la catena della polimerizzazione. Ora, perché questo avvenga in maniera soddisfacente per i nostri materiali, per avere le caratteristiche che dicevamo prima, resistenza, stabilità e tutto il resto, significa che deve avvenire in un certo tempo relativamente logico e nello stesso tempo in un grado di unione di questi monomeri tra di loro abbastanza elevato. Parlando sempre di numeri, se noi abbiamo uno spessore di materiale da polimerizzare di un millimetro e lo vogliamo polimerizzare, gli diamo una luce con una lunghezza d'onda di 470-480 nanometri e quanta energia serve per un millimetro cubo di materiale? Da studi fatti da varie ricerche, tantissime negli anni passati ma anche recenti, si parla di 16 Joule o se lo trasformiamo in millijoule 16000 millijoule. Questo che vuol dire? Che una lampada da 1000 mW, che noi conosciamo questi numeri, i mW per centimetro quadrato, una lampada di questa entità riesce a polimerizzare 1 mm cubo di materiale in 16 secondi. Ma se io ho una lampada di 2000 mW riesco a dimezzare i tempi? Teoricamente sì, però c'è un altro problemino che vi volevo segnalare stasera. Quanto peso deve trasportare ogni molecola appresso per polimerizzarsi? Che voglio dire? Dentro il composito non sono solo i monomeri, sarebbe un solo liquido a questo punto, ma esistono delle particelle, il cosiddetto filler, che può essere 30%, 80%, 60%, secondo quanto è caricato, tra virgolette, il nostro materiale. Bene, si è visto che un materiale che ha una media 70% di filler richiede, per poter arrivare a una polimerizzazione almeno del 75-80%, richiede almeno 20 secondi. Parliamo di una quantità di 1 mm cubo di materiale. Se il mio materiale è il doppio di volume, richiede 40 secondi. Ma sempre su 1 mmW parliamo di lampada. Ora parliamo sempre della stessa lunghezza d'onda, ma parliamo anche dello stesso iniziatore, dello stesso tipo Canforo Chinone o Ivo Serin, quello che è, però sempre della stessa natura. Se invece il nostro materiale, pur di essere polimerizzato da varie lampade, contiene vari tipi di questi gruppi chimici che devono essere attivati, sicuramente anche l'energia della nostra lampada deve essere modificata, deve essere adattata con queste nuove lunghezze d'onda e nuovi modificatori, convertitori della polimerizzazione. Per questo sono arrivate nei nostri studi da poco alcune lampade che riescono ad avere più lunghezze d'onde, di conseguenza riescono a convertire più tipi di iniziatori che stanno all'interno dei nostri materiali. Qui ho messo un po' dai primi LED, LED successivi di una decina di anni fa, le halogene, halogene potentissime, non so se qualcuno conosce questa, arriva a 3400 mW e poiché può riscaldare parecchio, c'è un circuito di raffreddamento dentro. Questa è un'ottima lampada, io la consiglio moltissimo, per chi cementa manufatti in composito già prepolimerizzati in cavità dove la polpa sotto non c'è, perché se no si cucina la polpa. In ogni modo questi hanno pure la possibilità di modificare l'energia, non è che va subito a 3400 mW. È una lampada eccezionale, un po' costosetta, però anche un certo volume, quindi bisogna conoscere tutto. Recentemente stiamo valutando lampade che si chiamano multi-wave, lampade che hanno possibilità di avere più LED e quindi possono coprire più iniziatori, come vi accenavo. Quindi possono avere non solo il picco massimo dell'energia a 460-470 qui, ma possono essere anche un po' prima, anche un po' dopo, perché alcuni di questi nostri convertitori sono attorno a 430-440 nanometri di lunghezza di onda, ma altri un po' oltre. Quindi queste lampade multi-wave che possono avere più possibilità di emettere lunghezze d'onde raggruppate in varie fasce, sicuramente ci danno la possibilità di coprire tutte le necessità, come può succedere con alcuni compositi che hanno dentro iniziatori tipo solo Calforo Chinone o solo Ivo Serin, oppure un po' misto. In questi casi le lampade che sono multi-wave riescono a coprire tutte le nostre necessità. Vi ricordo che alcuni compositi recenti non hanno solo Calforo Chinone, ma hanno anche i fenilfenolfosfinati, parola complicatissima, oppure il TPO, chiamiamoli direttamente con TPO che facciamo prima, ossido fosfin, non lo so come si può dire in italiano. In ogni modo questi hanno lunghezze d'onde più basse e noi abbiamo bisogno di avere una lampada che riesce a coprire questo. Infatti quelle multi-wave hanno più LED e riescono a soddisfare queste necessità. Però anche qui vi segnalo un particolare. Controllate sempre la totale dell'energia che esce fuori, cioè la montare totale dell'energia deve essere non inferiore a 1000 mW. Perché? Perché se lo suddividiamo nelle varie lunghezze d'onde va a finire che in un determinato composito che si eccita, si converte a 460 per dire se la nostra lampada è meno di 1000 mW, su 460 saranno 300 sì o no. Quindi non polimerizzerà in maniera soddisfacente. Ecco, questo era importante tenere presente. Ora ci tenevo di stare un attimino sulla polimerizzazione perché spesso ci sono delle sirene che girano, le nostre lampade sono migliori delle altre, ma se andiamo a vedere quanti sono i LED che emettono l'energia che ci serve succede qualche confusione. E alla fine, vedo che il mio tempo sta quasi per finire, vi ricordo soltanto che l'aveva già detto il dottor Quareini, ma vi ricordo io la differenza di pretrattamento se abbiamo dei manufatti in ceramica di silicato di litio, zirconio e ceramiche felspatiche. Teniamo presente che le felspatiche che si fanno soprattutto se le fai laboratorio sul modellino, spesso hanno delle impurità. Quindi un consiglio, ma anche sulle altre, consiglio sulle felspatiche è di chiedere al laboratorio di microsabbiarle delicatamente, perché sono molto fragili internamente, con un triossido di silicio con poca pressione, parliamo di non più di due atmosfere, di solito un'atmosfera è sufficiente, più sottile possibile, attorno a 27 micron, esiste adesso ossido di silicio, di alluminio scusate, e successivamente quando lo porta a noi dobbiamo mordenzarlo. Per mordenzarlo usiamo il fluoridrico, il quale nella felspatica deve essere attorno al 9%, sul desilicato di litio può andare bene anche al 5%, ma un po' più, più circa 90 secondi, e quello che conta, che volevo dire di più, è di metterlo subito dopo l'ammordenzatura, lavarlo e metterlo negli ultrasuoni, possibilmente con alcol e acqua, perché così eliminiamo microfrustoli che sono creati e possono cadere all'interno delle micro ritenzioni formate e impedire la penetrazione del nostro sistema adesivo. E qui un attimino ancora, una volta che l'abbiamo tolto degli ultrasuoni, sarebbe il caso di soffiare molto delicatamente, o meglio ancora metterli in un ambiente caldo di circa 60 gradi, un fornetto, e farlo stare lì 2-3 minuti, e successivamente passare il nostro silano. Se usiamo dei sistemi adesivi degli ultimi che vi ho fatto vedere, che hanno dentro già il silano compreso, vi chiedo di stare, di leggere attentamente che tipo di silano è, perché i silani non sono tutti uguali ormai. I silani adesso sono almeno di tre tipi. Quelli che servono per le ceramiche sono i silani fosfatici, si chiamano silani fosfatici, i quali si uniscono con componenti della ceramica, che di solito è alluminio composto di caolino, e riescono ad avere una unione chimica con loro. Perché se usiamo per esempio un silano che è per metalli non nobili, non gli fa niente, è inutile, è uno stratarello che occupa spazio e non permette l'adesione. Essendo un appassionato di materiali, mi convinco sempre di più che non esiste materiale che ha tutte quelle caratteristiche che vi ho fatto vedere all'inizio, che noi chiediamo dal materiale. In questo momento, a nostra disposizione, ci sono dei materiali ottimi, ma non sono precisi sostituti dei nostri smalto e dentina. Si avvicinano un po' sotto alcuni aspetti, ma non totalmente. Soprattutto sotto l'aspetto ermeticità, nel tempo, questa ancora dobbiamo aspettarla. Conoscendo questo allora, io dico che è meglio prevenire che curare. Come diceva il maestro di tutti noi, il professor Martignori, la migliore otturazione è la non otturazione. Quindi fare delle sigillature ai nostri pazienti, queste sono sigillature che hanno 16 anni. Fate bene, con isolamento eventualmente, o con cotoncini, quello che vi pare, però mordenzatura, ma con corretta diagnosi e utilizzando sempre un sistema adesivo e dei flowable o silani secondo la forma del solco, che riescono a penetrare più profondamente possibile. Possiamo avere una vita lunga di questo dente, magari insegnando al bambino e poi adulto di avere una corretta alimentazione, una corretta cura che non sempre ce l'hanno come questo. Però solo così possiamo dire che la migliore terapia è la prevenzione. quindi io vi ringrazio e se ci sono delle domande volentieri, se il tempo ce lo concede, possiamo rispondere, ma avremo l'occasione in altre situazioni di riparlare di questo. Grazie, grazie mille. Posso polimerizzare tutti i materiali con qualsiasi lampada? Direi di no. Alla luce di quello che abbiamo detto, dobbiamo conoscere che tipo di convertitori ha il materiale, uno, e secondo, che tipo di lampada abbiamo dal punto di vista lunghezza d'onda e energia. Quindi noi conoscendo il tipo di che cafforo che non è, che lunghezza d'onda assorbe per liberare i monomeri, possiamo allora parlare di spessori successivamente, perché l'energia è anche a spessori. In un'altra ricerca mi ricordo che c'era scritto 5 mm di materiale, non parliamo dei materiali flow, ma parliamo di materiali caricati almeno 75%, per essere polimerizzati sulla superficie con un rapporto 80% sulla base, ci vogliono almeno una lampada di 1000 mW, circa 60 secondi. Quindi calcoliamo questi spessori e calcoliamo la nostra lampada. Però c'è un altro fatto che vi ho accenato l'altra volta. Le nostre lampade nel tempo, nonostante si accendono, non emettono sempre la stessa quantità di energia. Quindi le lampade che hanno un sensore che potete controllare, fatelo spesso, ma chi non ce l'ha il sensore dentro, comprate un sensorino, costa poco adesso, meno di 150 euro. Potete controllare una volta a settimana la vostra lampada, perché anche se si accende, può darsi che la sua energia scende, e di parecchio anche. Quindi potete calcolare, di raddoppiare, triplicare i tempi, magari da più parte. Ecco, questo è. Sugli fotoiniziatori abbiamo detto, diciamo che attualmente sono tre tipi, tre famiglie. Più o meno non ha grande differenza, purché la lampada deve essere tarata su quel tipo di fotoiniziatore. E non sono tante le lampade che hanno LED idonei per ogni tipo di fotoiniziatore. Magari le multi-wave sì, però sempre con energia maggiore, minimo mille, se non di più, se possibile. Ora, per quello che riguarda qualche modellino, diciamo che la casa che ci ospita ha un buon modello, ma cercate anche altre nel mercato, perché ci sono. Quello che dovete valutare è la quantità di energia che lascia. La domanda interessante che mi sta arrivando è, è meglio cementare i peni con polis di flow o con cementi duali? E io rifaccio un'altra domanda su questa domanda. Com'è possibile polimerizzare un flowable 7, 8, 9, 10 mm in uno spazio a un gusto che sta là sotto, stretto, stretto, magari con fattore C sfavorevole al massimo, perché è tutto circolare? sapete che vuol dire fattore C. Quindi, no, la risposta è no. I cementi duali sono da preferire. E abbiamo accenato anche, secondo il tipo di adesivo che abbiamo utilizzato, lasciate qualche minuto che faccia presa, o almeno che inizia, la polimerizzazione, l'autopolimerizzazione, e poi passate la luce più volte da più angoli, almeno un minuto destra e sinistra sopra e sotto. Ok, se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti, spero che seguite le attività dell'Accademia, state sempre sul sito dell'Accademia e vedrete tutte le iniziative che piano piano verranno organizzate. Vi ringraziamo il Presidente dell'Accademia, ma ringraziamo soprattutto la Desplai Sirona